L'ospedale di Urbino è ormai allo stremo delle forze e dopo l'appello quasi disperato lanciato la settimana scorsa dagli esponenti del Partito Democratico della città abbiamo depositato una interrogazione rivolta all'assessore alla salute Salta Martini. Chiediamo di intervenire al più presto perché il personale sanitario sta vivendo una situazione non più sostenibile. La carenza non riguarda solo gli anestesisti ma anche altri medici, infermieri e tecnici che sono impegnati contemporaneamente anche a supporto del Covid Hospital di Civitanova Marche, il cui personale arriva solo dall'ospedale di Urbino e da quello di Macerata. Al tempo stesso il personale sanitario di Urbino è anche l'unico attivo nei tre punti vaccinazione della provincia, quindi anche a Pesaro e Fano. E oltre a questo la situazione è aggravata dalla carenza di personale che prosegue ormai da diversi mesi perché il piano del fabbisogno presentato dall'area Vasta 1 lo scorso anno chiedeva 44 infermieri e ne sono stati concessi solo 24, di questi 8 hanno rinunciato, 7 invece erano già presenti e sono stati stabilizzati. Insomma, alla fine è stato coperto solo il 20% del reale fabbisogno. L'interrogazione quindi rivolta alla giunta a Quaroli chiede che si pongano dei correttivi per accelerare anche lo scorrimento delle graduatorie e quindi superire così più in fretta la carenza di personale, ma anche di evitare che possa proseguire il sistema del centro unico di reclutamento che non può gravare più solo sulle spalle del personale sanitario dell'ospedale di Urbino, dove oltre a infermieri anestesisti mancano anche medici in altri reparti, fisiatria, cardiologia, ortopedia, ginecologia, psichiatria e anche al pronto soccorso. L'interrogazione quindi a carattere di urgenza e ci aspettiamo che l'assessore Saltamartini possa capire davvero la gravità e intervenire al più presto.